Dopo il suo negozio di Serpente, Umino sarà anche con Ossomatics come consultante. Impressioni nuovi colori e design da Boots per 2021, come funziona Reds Racing T-Pro. Un design bello da BT Design. Classico e piccoli fantastici da Masaaki Hirosaka, legenda di racing legenda. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!